corrisse e quindi si è creata questa stratificazione. Da dove veniva il flusso piroclastico che è trattato la casa? La stuva subito, ma dato che stanno in nuvole, non abbiamo un indicatore, un povero albero, c'è il magliatore, l'arbero dell'epoca, è il calco dell'albero che si è solidificato, sforza così, perché questo flusso piroclastico ha scacciato a chiave, quindi quello è un indicatore della tirazione. Quello che è stato trovato, questo vigneto che vedete qua, attraverso il terreno e attraverso il sistema della tiratura di gesso, si è risalita al tipo di radici, che si è individuata che era una vite e si è risalita anche a che tipo di viteva, e queste le hanno piantate al posto dove erano prima, quindi la casa e il vigneto ripercuotono gli stessi origini, gli alberi rimangono in calcio a terra, li vedete questi qua? Andiamo a vedere da vicino.